Veramente ciò che accade a Taranto ha dell'incredibile. Ci troviamo in Viale del Tramonto, proprio all'accesso dopo il curvone. Ho al mio fianco il collega Massimo Battista, consigliere comunale di Una città per cambiare Taranto. E qui vediamo una cosa stranissima, un ammasso enorme di Posidonia, volgarmente chiamata così come alghe, che sarebbe stata spostata da Praia Mare qui, salvo poi vedere effettivamente se sono state fatte delle verifiche, dei controlli sulla tipologia di quanto è stato spostato. Massimo, è una situazione strana. Certo, anziché smaltirla laddove si dovrebbe secondo i vari canoni, cosa facciamo? Spostiamo dalla mano destra alla mano sinistra. No, se è vero quello che stiamo registrando e stiamo appurando, perché noi camminiamo, a noi piace essere consiglieri d'assalto, camminare per la strada, cioè se è vero quello che stiamo verificando e toccando con mano, sembrerebbe che questa Posidonia, queste chiamiamole biomasse vegetali, che sono state spostate l'anno scorso, se qualcuno ricorda, furono spostate tra l'altro l'anno scorso, ci furono dei cingolati sulla spiaggia e la legge prevede che i cingolati sulla spiaggia per prendere la Posidonia non lo possono fare, però questo è accaduto. Sembrerebbe che questa Posidonia è stata riportata qui dal parco del Mar Grande, la cosa grave è quello che noi ci rivolgiamo, adesso chiameremo l'assessore Cirace, la polizia ambientale, capite se c'è stata un'analisi, capite se questa Posidonia ha avuto delle analisi, sono state caratterizzate, perché la legge, le linee guide prevede che queste Posidonia, non è questo il periodo, devono essere rimesse, spiaggiate e messe non così con questo cumulo, perché qua ragazzi, qui entrano bambini, entrano rossi e guardate le immagini, qui sembra delle collinette come quelle ecologiche, come quelle ecologiche, come noi conosciamo qua, tra l'altro c'è qui... zona militare di vieto di accesso, ma ora ci sinceriamo con l'assessore alla polizia municipale, Mimmo Ciraci, ora lo ascolteremo telefonicamente. Mimmo, buongiorno, Luigi Abate, sono in compagnia del consigliere, del collega Massimo Battista, siamo in una diretta Facebook, c'è una situazione stranissima in Viale del Tramonto, sembra che degli ammassi di Posidonia siano stati spostati da Praia Mare a Viale del Tramonto, ora vorremmo verificare, vorremmo chiamare l'ARPA, vorremmo chiamare gli addetti dei vigili ecologici per capire se effettivamente la Posidonia sarebbe stata spostata da Praia Mare proprio all'inizio di Viale del Tramonto, una zona accessibile, un rischio pericoloso, perché bisogna vedere se c'è stata la caratterizzazione, l'analisi, quanto previsto dalla legge. C'ho a fianco Massimo Battista. Massimo Battista, ciao. Stavo dicendo, appena giri il curvone di Viale del Tramonto, sembrerebbe, cosa grave, che questa, tu ti ricordi la storia che è successa l'anno scorso, che questa Posidonia fu prelevata da Viale del Tramonto e messa lì a Praia Mare. Le linee guide della regione ti indicano, ti danno, ti dicono che il lavoro che bisogna fare l'anno successivo è quello di stenderla su tutto il litorale, perché poi una mareggiata le riporta in acqua, le linee guida sono quelle, no? Quelle regionali. Invece qua cos'è accaduta? All'imboa, appena giri il curvone, c'è un accumulo, sembra una montagnetta. Le collinette ecologiche, sembra. Le collinette ecologiche. Mandatemi per favore delle foto di Whatsapp che faccio controllare, mando qualcuno a controllare. Va bene, verifichiamo perché è una situazione particolare, importante. Ieri con la giornata di caldo che c'è stata, qui ci sono i bambini. Agli agenti dell'ambientale magari faccio fare un accertamento. Va bene, grazie, buona giornata, buon lavoro. Bene Massimo, noi abbiamo svolto questa funzione di controllo di, tra virgolette, cani da guardia. Ora vedremo se effettivamente ci sarà riscontro, vedremo a cosa porteranno le verifiche, perché certamente al di là della venuta o meno caratterizzazione, però sta di fatto che non si possono allocare qui, non si può allocare cumuli di alghe di Posidonia, ripeto, in un'area accessibile, in un'area a 2-3 metri dalla curva con i bambini che potrebbero piombarci sopra. Quindi vediamo cosa facciamo. Noi siamo consiglieri di strada, nel senso più nobile del termine, non stiamo seduti in poltrona, siamo a contatto diretto con il territorio per dare risposte. Qualora dovesse essere vero ciò che abbiamo rilevato e denunciato, l'assessore all'ambiente farebbe bene a dimettersi, perché quello che è previsto dalla legge parla chiaro, i cumuli non possono essere buttati così, spiaggiati in questa maniera, qui ieri c'è stata una giornata di caldo, oltre 30 gradi. Guardate qui, giusto per capirci Massimo, guardate qui l'accesso, guardate, a pochi metri dalla curva e poi ci sono anche dei sacconi qui sotto, quindi voglio dire, la zona andrebbe recintata, andrebbe resa inaccessibile, al di là della caratterizzazione, della valutazione di quello che è stato spostato. Luigi, qui la gente che ci ascolta, qualcuno pensa che i mali di questa città sono solo l'ilva, c'è, parliamo delle cose ordinarie, c'è chi qua ha buttato questi cumuli, guardi qua, guardate, questi sacconi qui, qui c'è l'accesso libero, siamo proprio qui, guardate, proprio sullo svinco, c'è sul curvone del Viale del Tramo, quindi se qualora dovesse essere vero quello che noi stiamo denunciando, qualcuno farebbe bene. Soprattutto poi ci saranno poi le responsabilità di chi materialmente ha operato questo trasporto. Ma stavamo per andarcene, per concludere, ma la nostra vista si è imbattuta in cumuli di sempre Posidonia, stoccati chissà da quanto, a tal punto che addirittura è cresciuta l'erbaccia, le margherite, insomma la vegetazione spontanea, in tutto silenzio, perché in questa città tutti vedono e nessuno parla. Luigi, sono rammaricato. Qui si è proprio stratificata, si è incancrenita. Veramente rammaricato, purtroppo di quello che oggi stiamo toccando con mano, cioè ripeto, se qualcuno ha delle responsabilità, qualora dovesse essere... Deve pagare. Deve pagare, perché qui non se ne può più, qui arrivano centinaia e centinaia di bagnanti, i bambini che molto probabilmente andranno sopra. Allora noi stiamo chiedendo, è stata fatta la caratterizzazione, sono state fatte... Al di là di tutto anche proprio l'allocazione in questo posto non può essere... Ma c'è... Al di là della caratterizzazione. Ci sono responsabilità gravi, penali, Luigi. Questo. Vi notizieremo ora, già domani verificheremo l'andamento della situazione, chi li ha autorizzati, se sono stati autorizzati e anche eventualmente... Guarda, guarda... Sì, 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 zona militare di vieto di accesso, quindi... Il popolo ingresso principale... Ma poi anche chi, ove mai vi fosse stata l'autorizzazione, c'è anche un modo pedestre di aver appunto così smaltito, depositato la Poseidonia. Vedremo, ci aggiorniamo. Grazie.